Marino Defendi si allunga la striscia positiva della Ternana, si allunga anche il passo sul Bari sconfitto oggi, ma non si guarda la classifica. Hai detto bene, non guardiamo la classifica, guardiamo già la prossima partita col Palermo che sarà fondamentale come del resto quella che abbiamo giocato oggi. Cosa ti è piaciuto oggi della Ternana, cosa ti è piaciuto di meno? Oggi mi è piaciuto comunque i tre gol che sono stati fondamentali, mi è piaciuto poco l'atteggiamento mentale, perché comunque sotto il piano atletico, tattico abbiamo fatto una buona partita, magari abbiamo concesso un po' troppo rispetto a quello che dovevamo, però l'importante sono i tre punti. Che avversario è stato la Baganese? Comunque un avversario che veniva da diverse sconfitte e sicuramente sono arrivati qua senza nulla da perdere. Infatti si è visto in alcuni casi, come detto prima, abbiamo lasciato troppo spazio e abbiamo rischiato comunque grosso. Anche un paio di interventi di Annarilli comunque hanno salvato il risultato. Forse questa è la cosa che mi è piaciuta meno. Il prossimo avversario, lo hai anticipato, sarà il Palermo, si gioca in infrasettimanale, poi ci sarà la Casertana, è un campionato che non dà tregua. No, è un campionato che non dà tregua, lo sappiamo, come del resto è stata un'andata. È un momento molto delicato, un momento dove dobbiamo dare il massimo, soprattutto mentalmente e fisicamente.